Siamo a Pestum, a Torre di Mare. Alle mie spalle si è consumata una tragedia. Sono morti un uomo, un rumeno, una donna e un piccolo di un mese e mezzo. Davvero una disgrazia. Avvolto nel mistero cosa è accaduto in una villetta a Torre di Mare, tra via della Giungaia e Lisippo, lungo la litoriania di Pestum, quando stamane un rumeno di 29 anni avrebbe ucciso e bruciato la moglie, su Aquatania ed il neonato di appena un mese e mezzo, prima di impiccarsi nel bagno. Sembra che a lanciare l'allarme siano stati dei residenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del comandante Francesco Manna. Gli inquirenti hanno allertato il procuratore Limbo. Dopo poco è giunto sul posto il metico legale Giovanni Zotti ed i vigili del fuoco. Le indagini del caso sono state eseguite con i rilievi dei militari dell'arma del SIS di Salerno. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, e presidiata dei carabinieri della liquida radiomobile diretti dal maresciallo Carmine Perillo e dalla sezione di Capaccio Scalo, agli ordini del luogotenente Serafino Palumbo. Da una primissima ricostruzione del fatto di cronaca, pare che ci sia stato un litigio fra i due. Poi si sarebbe passati dalle parole ai fatti. Sembra che sul corpo delle vittime ci siano tagli, provocati verosimilmente da oggetti condutenti. La moglie ed il bambino sono stati rivenuti carbonizzati sul letto. Invece l'uomo è stato trovato in bagno con una corda. Indagano gli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.